Un'altra testimone di Cristo che dà la vita in luoghi di missione, Luisa Dall'Orto, una suora di 65 anni di origine lucchese, è stata uccisa ad Haiti probabilmente a scopo di rapina nella capitale Porto-Prince dove operava. Aveva avviato un'attività di recupero dei baby schiavi in un subborgo poverissimo di Porto-Prince. È stata aggredita, vittima di un'aggressione armata, mentre si trovava in una strada gravemente ferita, poi è stata portata d'urgenza all'ospedale Bernard Meves dove si è spenta poco dopo, due giorni prima di compiere 65 anni. Quando era arrivata ad Haiti nel 2002, questa struttura che si chiama Casa Carlo, è stata ricostruita grazie ai fondi raccolti dalla Caritas Italiana con la Maxi Colletta del 2010, promossa dalla CEI. Quando è arrivata ha cominciato ad occuparsi della sua ricostruzione dopo il terremoto del 2010. Sol Luisa era nata il 27 giugno del 57, dopo aver frequentato l'Oceo Scientifico di Lecco. Nell'84 si lavora in storia e filosofia. Nello stesso anno entra nella congregazione delle piccole sorelle del Vangelo di Lione. Nel 1987 parte per il Camerun, vive a Sarapombe, in una foresta tra i pigmei Baca, fino al 1990. Nel frattempo a Romagna, dal suo paese di origine, sorge il gruppo missionario a sostegno di questa popolazione. Nel 1994 consegue la laurea in teologia in Svizzera. Nel 1997 al 2001 missionario a Madagascar, dove alle varie attività pastorali attenne anche l'insegnamento di etica generale speciale, quindi attiva anche nel campo della divulgazione della cultura scientifica. Nel 2002 era missionario ad Haiti, ha anche insegnato storie della filosofia e della dottrina sociale della Chiesa e ha fatto parte del comitato di redazione di una rivista locale. Sol Luisa riposa in pace, nel cuore di Cristo.